Ciao a tutti, esercizio 12 di JavaScript, oggi come vedete qua dalla traccia andiamo a creare una semplice to-do list. Quindi l'obiettivo di oggi è creare una semplice to-do list per la gestione delle cose da fare in giornata o progetto, per cosa la usate in realtà è irrilevante. Inserendo un nuovo task si deve accodare agli altri già presenti e cliccandoci sopra deve essere rimosso, perché è considerato completato, ok? Quindi noi facciamo la lista della spesa, quindi scriviamo ogni volta sotto il nostro task e, attenzione, i task devono essere salvati nel local storage. Qua avete la documentazione del local storage che dovrei anche linkarvi qua sotto a sto punto. Vedete su Mozilla, scrivete local storage javascript e vi esce. Questo è quello che possiamo fare, set item, get item, remove item e il clear. Vi basta imparare questa cosa qua se volete farlo senza di me, se volete farlo con me, chiaramente lo faccio io, perciò non è un problema. Che cosa aggiungiamo rispetto a quello che ho scritto qua per la registrazione del video che andrò a aggiungere poi anche qua sul sito? Che nel nostro input all'invio dobbiamo inviare il task non solo col bottone e poi che dobbiamo gestire il tutto con la classe to-do list e basta. Questo è quanto, ok? Direi che possiamo cominciare e cominciamo con un bel html, perfetto. E qua dentro h1 e scriviamo to-do list, non siete obbligati a farlo. Piace solo a me, go live, più che altro per vedere che funziona. Aspettiamo, vedete, to-do list funziona. Allora, ci servono tre cose. Ci serve l'input dove scriviamo il nostro task, perfetto, quindi input, l'id chiaramente è new task, come vi sembra? Assolutamente sì. E poi chiaramente type text, perché dobbiamo dirgli che è banale testo, perfetto. Dopo che ci serve il bottone per dirgli che dobbiamo aggiungere il task, quindi aggiungi task, anche se in realtà gestiremo l'invio sull'input. Quindi possiamo farlo sia in un modo che nell'altro, ma voglio che lo facciate col bottone, perché se magari l'utente non capisce di fare invio, almeno c'ha il bottone. Ok? Più che altro ci alleniamo ancora una volta a collegare un evento al bottone. Va bene? Quindi bottone, gli diamo id, che è uguale a new task btn, perfetto. E manca un'ultima cosa che è tutta la zona css, possiamo accodarlo qua al body, ma perché non fare un container, quindi un banale dvd, uguale, potrebbe essere to-do, to-do container, chiamatelo come volete, to-do è più che sufficiente. Quindi questa è la parte html, ok? Molto molto semplice, cominciamo a gestire innanzitutto la parte html, quindi non andiamo ancora a inserire la to-do list, non andiamo ancora a fare la classe to-do list, ma gestiamo quelli che sono i vari eventi. Quindi, per gestire gli eventi, allora, la prima cosa che vogliamo fare, saremmo improntati a fare subito un bel const new task btn, ma in realtà utilizziamo prima un document.addEventListener e lo facciamo con DOMContentLoad, ok? Quindi aspettiamo che tutto il DOM abbia caricato o potremmo avere problemi, scusate non è qua, questo è un controllo extra che facciamo, ok? Quindi aspettiamo che tutto il DOM, che tutto il contenuto del DOM sia stato caricato, una volta che è stato caricato cominciamo a fare quello che ci serve, ok? Quindi adesso possiamo cominciare, è un'accortezza aggiuntiva per evitare situazioni, quindi new task btn è uguale a document.getElementByD, indovinate un po' come si chiama il nostro bottone, new task btn, perfetto, ottimo. Adesso cosa vogliamo prendere? Vogliamo prendere l'input, quindi constInput è uguale a document.getElementByD e qua mettiamo new task, in realtà potremmo aggiungere un'altra cosa, il tasto clear per pulire tutto, quindi se abbiamo finito tutto e vogliamo toglierli direttamente, facciamo clear e mettiamo qua pulisci, perfetto. Così ci basta solo duplicare questo e mettiamo clear btn e qua mettiamo, visto che è un bottone, non scriviamo solo clear, scriviamo clear btn, giusto per essere consistenti con quello che stiamo facendo. Quindi clear btn, bam. Adesso quello che vogliamo fare è andare a mettere gli eventi sui vari bottoni, non qua sotto ma qua, perciò new task btn.addEventListener e qua dentro facciamo sul click. E sul click cosa vogliamo fare? Vogliamo far partire qualcosa, al momento ci limitiamo a fare una funzione anonima, dentro un bel console.log nuovo task. Duplichiamo la stessa cosa, prendete tutto, potete fare con mayusk, freccetta su, 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 dopo che è mayusk alt, continuo a ripeterlo con freccetta giù. Possiamo ripeterlo in realtà tre volte, adesso capite perché, cominciamo con clear btn. Io non farò la funzionalità di clear, ok? Una cosa che mi è venuta in mente adesso è che possiamo aggiungere, vorrei che la portaste avanti voi poi in autonomia. Quindi non ci sarà una soluzione, però in realtà dovete solo pulire la to-do list, quindi andremo a impostare talmente tutto bene che poi vi basta aggiungere due cosine. E secondo me su certe cose è giusto che non abbiate una soluzione, andiamo a fare la soluzione di tutto. Altre cose dovete essere confidenti che l'avete fatto corretto, ma se funziona è corretto. Certo potreste sempre sistemare il codice, ma con l'altro paio di maniche, quindi clear, non chelar, ma vabbè facciamo pulisci task inoltre fare i fenomeni. Pulisci task e poi input, qua cambia leggermente, non è sul click, ma è su key press. Quindi noi vogliamo beccare sull'input quando viene premuta una certa chiave. In questo caso vedete, per chiave intendo tasto della tastiera, ok? Che viene chiamata key, d'altronde è keyboard, la board è la tavola, è la board delle chiavi, ok? Ma non chiavi intese come intendiamone per aprire la porta, le key sono i singoli tasti, ok? Quando schiacciamo non ERT, ma quando schiacciamo invio, vedete, mi deve beccare l'invio e creare quello che mi serve, ok? Quindi, key press, dobbiamo prendere l'evento I, quindi quello che sta succedendo. Sulle altre cose non ci interessa, ci interessa solo su questo. E voglio fare subito if, anzi, prima di fare l'if key, facciamo un console log che vi faccio vedere cosa succede. Perfetto, salvo, verifichiamo che abbiamo tutto. Allora, aggiungi task, vedete? Nuovo task. Pulisci, pulisci task, perfetto. Cominciamo a scrivere Q, vedete? La key che mi ha preso, la key è la Q, vedete? V, W, continua a scrivere QWERTY, vedete? Q, W, E, R, T, Y come chiave, come key. Eccolo qua, vedete, key Y, assolutamente. Il codice è key Y. Adesso vi faccio vedere l'invio, bam. Vedete che mi ha preso enter, mi ha preso enter sia come codice che come key, va bene? Quindi questo è quello che interessa a noi e il tipo di evento è key press, vedete? Ok. Quindi, sapendo che noi vogliamo beccare enter come codice, diventa tutto molto facile. Perciò non abbiamo neanche bisogno più di prendere il console.log, ci basta fare if Y.key o code, a sto giro. Però, uguale uguale a enter, che cosa facciamo? Console.log, ho premuto invio. Vado lento, potremmo già andare avanti, ma sempre per lo stesso discorso. Comincio a premere, non succede niente, premo invio, vedete? Ho premuto invio. Perfetto. Quindi, al momento, noi restiamo così. L'unica cosa che possiamo aggiungere è, certo, ho fatto invio, più avanti aggiungeremo il task, ma io voglio pulire qua dentro. Quindi, lo possiamo già fare. Input.value, lo andiamo a zerare. Ok? Quindi, che cosa devi fare? Giusto, aggiungiamo magari nell'input un placeholder. Quindi, placeholder uguale. Cosa devi fare? Punto di domanda. E io scrivo schifo, perché devo fare schifo. Faccio invio, vedete? Ho premuto invio. Perfetto. Cosa devi fare? Fare la spesa. Cosa devi fare? Andare al cinema. Bam. Ok? Quindi, la funzionalità c'è. Quello che poi dovremo fare è collegarla, effettivamente, alla nostra to-do list e mandarla a schermo. Però, le prime cose le abbiamo messe in piedi. Adesso, 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 possiamo anche lasciare spazio. Potete scriverlo fuori dal document, sia sopra che sotto, è rilevante. Io preferisco scriverlo sopra, prima la classe. Mia personale scelta, quindi class to-do list. Che cosa facciamo? Dobbiamo andare a creare la nostra classe to-do list. Perché? Perché vogliamo andare ad avere una cosa del genere. Const to-do list 1, magari. Uguale new to-do list. Perfetto. E poi sotto vogliamo andare a prendere to-do list 1, punto, aggiungi task. Ok? To-do list 1, punto, rimuovi task. Oppure, to-do list 1, clear. O pulisci tutto. Ok? Resetta. Chiamatelo come volete. Facciamo pulisci. Quindi, vogliamo utilizzare la classe per creare un oggetto to-do list. E da qua, fare quello che ci serve. Ok? Questo è il motivo per cui lo utilizziamo. Diventa molto più semplice rispetto ad avere tutte le funzioni. Function. Pulisci. To-do list. Scrivo un po' così a caso. E poi gli devi passare il riferimento alla to-do list. Diventa noioso così, sequenziale. Lavoriamo ad oggetti. Che questo esercizio si presta bene. Quindi l'obiettivo di questo esercizio è lavorare con gli oggetti. Mandare a schermo la roba. E fare qualcosa aggiuntivo. Vedete, l'input con l'invio. Insomma, qualche chicca aggiuntiva. Prevalentemente come strutturare una to-do list in questione... In programmazione ad oggetti. Soprattutto salvare i dati sul local storage. Quindi, cominciamo con il constructor. E qua dentro mettiamo semplicemente che... These tasks. Quindi tasks, plurale. Che cosa abbiamo? I tasks non sono altro che una lista di tasks. In questo caso di string. Perché vedete, se io scrivo andare al cinema, è una stringa. Ok? Quindi è una lista di string, è così. Cosa vuoi fare? Schifo. Riprendendo la battuta di prima, poco divertente. Andare al cinema. Cinema. Preparare. Preparare il pranzo. Eccetera. Ok? Avremo una cosa del genere più avanti. Per ora, chiaramente, l'abbiamo appena iniziata. Perciò, these tasks uguale vuoto. Più avanti andremo a caricare i tasks dal local storage. Ma per ora non ha assolutamente senso. Al momento abbiamo una cosa del genere. Ok? Quindi ci limitiamo a fare un bel console.log e mettiamo to-do list, virgola, dis.tasks. Ok? Vogliamo semplicemente stampare i tasks e noi andiamo qua sotto. Ops. Devo stare qua dentro. E andiamo qua e facciamo una bella to-do list. const to-do list. Facciamo così. Uguale a new to... Dov'è? To-do list. Bam. Salviamo e vedete che abbiamo to-do list con i tasks. Anziché chiamiamoli to-do list, chiamiamoli task. Così vedete che la lista di tasks al momento è vuota. Perfetto. Ora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cominciare a gestire l'aggiunta dei tasks. Perché qua possiamo già aggiungerli. Quindi cominciamo a lavorare sull'aggiunta dei tasks. Quindi aggiungi task. E qua dentro andiamo a prendere chiaramente il valore. Quindi ci arriverà aggiungi task da qua. Quindi ne faremo to-do list punto. Aggiungi task. Lo vedete? E qua dentro passeremo il valore dell'input. Che sarà semplicemente input punto value. Ok? Io ve lo dimostro così. Quindi mandiamo a schermo l'input. Cosa devi fare? Andare in palestra. Invio. E ho sbagliato perché l'ho fatto... Ok, non l'ho fatto sull'invio. Andare in palestra. Aggiungi task. Vedete? Nuo task. Andare in palestra. Togliamo qua magari nuovo task. La stessa cosa la ripetiamo sull'invio. Vedete? Qui. Perfetto. Facciamo la stessa cosa. Salvo. Cosa devi fare? Andare in palestra. Invio. Ci da zero perché sono stato stupido io, scusatemi. Dobbiamo abbassare questo qua. Altrimenti ci da errore. Riproviamo. Andare in palestra. Invio. Vedete? Ho premuto invio perché è quello che ho fatto. Possiamo anche toglierlo. Ma soprattutto andare in palestra. Risalviamo un attimo. Riproviamo. Cosa devi fare? Pranzare. Faccio invio. Invece lo facciamo con aggiungi task. Cenare. Aggiungi task. Vedete? Ci da esattamente la stessa cosa. Quindi sappiamo che per entrambi funzionerà aggiungi task. Ok? Possiamo togliere il console log di input value. Non ci serve più. In realtà col fatto che gestiamo la stessa cosa potremmo metterli vicini. Però io ho fatto due bottoni e poi l'input. Gestitelo come volete. Però sappiamo che l'input viene preso. E soprattutto che l'utilista aggiungi task viene passato effettivamente qualcosa. Quindi noi qua abbiamo il task che ci viene passato. Adesso dobbiamo fare una cosa molto molto semplice. Dobbiamo prendere questo task e buttarlo qua dentro. Quindi la prima cosa da fare è this.tasks.push. Cosa pushiamo? Pushiamo il nostro task. Molto semplice. E se noi andiamo di console.log e andiamo su tasks, facciamo virgola, mettiamo this tasks, io salvo. Task al momento è vuoto. Se io dico cosa devi fare, pranzare, pranzare, invio. Vedete che task abbiamo? Pranzare. Metto cenare. Invio. Cenare. Andare in bagno. Aggiungi task. Vedete? Tutti i nostri task vengono aggiunti istantaneamente. Perfetto. Al momento abbiamo tutta questa parte qua. Come lo mandiamo a schermo però? Allora, per mandarlo a schermo possiamo scrivere tutto qua dentro e cominciamo a scrivere tutto qua dentro, poi lo esternalizziamo in un'altra, in un altro metodo. Ok? Allora, innanzitutto prendiamo la nostra to do, quindi const to do uguale document.getElementByD e prendiamo la nostra to do. Io lo gestisco con, come si chiama, div e paragrafi all'interno. Potevate usare una whole, quindi una lista non ordinata e dentro è lì. Ok? Non fa assolutamente differenza, fate come volete. Come volete. Quello che vogliamo fare non solo è prendere la nostra to do, la nostra to do è letteralmente il div che non vedete. Questo qua. Quello che non vedete lo andiamo a riempire, quindi lo prendiamo e dentro gli appendiamo tanti paragrafi diversi. Il risultato sarà il seguente, vi faccio vedere. Facciamo p e dentro ci scrivo task 1, 1, lo moltiplico, salvo. Il risultato sarà il seguente. Ok? Quindi vogliamo fare esattamente questo, creare un p in modo dinamico, buttarci dentro il testo del task e mandarlo a schermo. Niente di complesso, quindi const. Potete chiamarlo elemento, p, paragrafo, quello che volete. Io lo chiamo p document.createElement. Element e qua dentro mettiamo il nostro p. Dobbiamo creare chiaramente un text node. A sto punto però lo agganciamo direttamente qua dentro. Intanto A lo sappiamo già fare e B sto testo non ci servirà, quindi append child. E qua dentro vogliamo appendere document.create. Ah qua non me lo troverà mai. CreateTextNode. E nel text node cosa mettiamo? Mettiamo il task che abbiamo preso. Quindi creiamo il nostro p e dentro gli mettiamo il testo. Il testo è il testo che abbiamo scritto qua. Ok? Tipo cenare. Va bene? Adesso salviamo. Proviamo. Cenare. Non succede niente perché? Perché non abbiamo appeso cosa? Non abbiamo appeso a to do il paragrafo. Facciamolo subito. Quindi to do.append child. Sono cose che avreste dovuto notare subito perché le abbiamo già fatte, ne abbiamo già fatte abbastanza. Quindi cosa devi fare? Cenare. Invio. Vedete? Cenare. Funziona. Proviamo anche con pranzare. Andare in bagno. Aggiungi task. Vedete? Funziona. Quello che ci interessa però è aggiungere il fatto che sul click dobbiamo poter eliminarlo. Ok? Quindi per eliminarlo dobbiamo mettere su ogni paragrafo un event click listener. Scusatemi, un event listener. E sul click dobbiamo poi chiamare disconcludi task. Ok? Che non abbiamo ancora fatto. Quindi creiamo la funzione un attimo concludi task o completa task. E qua dentro facciamo console.log. Possiamo mettere il task che ci arriva. Sappiamo sicuramente che ci arriva un task. Quindi il task che ci arriva facciamo così con i template reiterals. Quindi qua dentro mettiamo il task. E poi scriviamo completato. Perfetto. Quindi quello che vogliamo fare qui è aggiungere un event listener su ogni paragrafo. Quindi P ad event listener. L'event listener è il click perché giustamente noi vogliamo cliccare su queste cose qua. Va bene? Intanto andiamo su console che ci sarà più utile. Sul click cosa facciamo? Due cose. Concludi task e rimuoviamo l'elemento. Ok? Creiamo una funzione anonima che va a richiamare cosa? Va a richiamare disconcludi task e gli passiamo il task. Perfetto. E in più andiamo a togliere poi l'elemento. Quindi qua dobbiamo prendere l'evento e dobbiamo togliere questo elemento qua. Ok? Per ora ve lo mando sulla schermo. Poi lo rimuoviamo quindi console.log i.source element. Allora vediamo il discorso. Inserisco pranzare invio cenare. Vedete? Perfetto. Clicco su cenare. Cosa è successo? Cenare completato. Perché mi ha chiamato concludi task. Ok? E poi ho detto mandami a schermo l'element. E l'element che ho cliccato è questo. Vedete? P cenare. Quindi cosa voglio fare? Su concludi task. Devi togliermi il task da tutta la mia lista task. Ok? E tanto che ci sei mi prendi questo elemento e me lo cancelli. Quindi cominciamo con rimuovere l'elemento. Molto semplice. Veramente facile. I.source element.remove. Diciamo così. Vediamo un po' se funziona. Io scrivo cenare. Bam. Premo. Ed è scomparso. Ok? E c'è lato cenare completato. Quello che dobbiamo fare adesso è effettivamente mandare a schermo la lista task. Quindi potremmo copiare qua e mandare a schermo anche this.tasks. Ok? Al momento sarà compreso. Vedete che non ce lo toglie perché faccio così c'è ancora cenare. Ma com'è possibile se cenare è completato? Perché non l'abbiamo ancora rimosso. Quindi molto facile. Dobbiamo andarlo a rimuovere. Prima di rimuoverlo però io vorrei togliere questa parte di codice perché vedete che aggiungi task. Mi piace l'idea che pusci il task e basta. Poi eventualmente può chiamare un'altra funzione se volete che è this.genera.nuovo.task. Cioè se volete far sì che questa funzione si occupi solo di inserire il dato e chiamare la generazione del task. La generazione effettiva del task html la facciamo in un'altra funzione. Potete non farlo. Io preferisco. Io preferisco. Salviamo. Vediamo se funziona. Cenare. Invio. Abbiamo un problema. Chiaramente task is not defined. Quindi dobbiamo passare eventualmente il task qua dentro. Se lo volete fare. Mi raccomando. Facciamo così. Riproviamo. Cenare. Invio. Vedete che funziona. Premo. Cenare completato. Quindi non è assolutamente cambiato niente. E abbiamo generato il nuovo task. Perfetto. Adesso. Questo possiamo anche portarlo su. Se volete gestirlo così. Adesso dobbiamo togliere i task. Per togliere il task. Innanzitutto dobbiamo capire. Aggiungiamo un po' di cose. Cenare. Pranzare. Andare in bagno. Ok. Dobbiamo capire. Quando clicco. Vedete. Abbiamo una lista. Noi dobbiamo riuscire a prendere questo indice. Pranzare. Quello che io schiaccio qua. Come facciamo a sapere che è l'indice 1? Quindi dobbiamo trovare l'indice del task. Pranzare. Ok. Dopodiché. Lo togliamo. Punto. Questo è il discorso. Quindi. Noi prendiamo. E facciamo. Const. Index. Uguale. These. Tasks. Punto. Index. Ups. Non ho fatto il punto. Ma ho fatto virgola. Punto. Index off. E qua dentro vogliamo vedere l'index off del task. Qua non è cinst ma è const. Const. E proviamo ad andare a schermo. Quindi console.log. Mandiamo a schermo il nostro index. Ok. E per dimostrarvelo mandiamo a schermo. These tasks. These. Tasks. E qua mettiamo l'indice. Ok. Riproviamo. Allora. Pranzare. Cenare. Andare. A. Dormire. Perfetto. Io schiaccio su cenare. Vedete. Cenare è l'uno. Ed è vero. Zero è pranzare. Cenare è l'uno. Andare a dormire. Scusatemi. È il due. Quindi vedete che mi ha preso esattamente il task che ci serve. Quindi. Visto che abbiamo tutti i dati che ci servono. Possiamo rimuoverlo facilmente. Quindi. Tasks. Punto. Splice. Facciamo splice. E che cosa facciamo? Lo splice dell'index che abbiamo. Quindi voglio andare qua. Splice ci permette di togliere un elemento. Cioè ci permette di andare ad un indice particolare. Possiamo anche partire da zero. In questo caso andiamo all'indice uno. Quanti elementi vogliamo togliere? Uno. Togliamo solo cenare. Se avessimo fatto due qui avrebbe tolto cenare e andare a dormire. Ma noi abbiamo premuto solo cenare. Quindi ci interessa solo uno. Ok? Quindi se adesso rimandiamo a schermo. Console. Log. These. Tasks. Direi che possiamo togliere questo qua. Anche cenare completato non ci interessa. Ormai è vecchiotto. Se io vado qua faccio cenare, pranzare, andare a dormire. Invio. Io premo qui. Vedete che è stato tolto. E in più è stato tolto anche dall'array. Ok? Perfetto. Quindi nel momento funziona tutta questa parte. Adesso prima di caricare i dati al riavvio. Vi faccio vedere. Se io aggiorno la pagina abbiamo perso tutto. Ok? Quindi dobbiamo salvare i dati nel local storage. Prima di caricare i dati al riavvio della pagina. Dobbiamo salvarli quantomeno la prima volta. Quindi cominciamo a mettere in piedi quando aggiungiamo un task. Li salviamo nel local storage. Ok? Quindi vedete che abbiamo tutti i task. Rivediamo. Se io faccio pranzare. Pranzare, cenare. Vedete ogni volta ci vengono mandati tutti i task. Noi basta che prendiamo questi task e li salviamo nel local storage. Local storage è su application qua. Questo è il local storage. Vedete? Local storage è l'indirizzo a cui sono. Chiaramente in locale. Quindi console log. Banalmente ci basta fare local storage punto set item. Ok? E dentro lo chiamiamo tasks. Lo vedrete poi come viene formattato. E voi sareste incentivati a buttare dentro these tasks. Però vi mostro cosa succede. Se noi facciamo una cosa del genere. Prendiamo un po' più di spazio. Andiamo su application. Allarghiamo un pelino. Io faccio cenare. Invio. Faccio poi pranzare. Invio. Aggiorno. Mi ha dato errore perché ho scritto solo set e non set item. Mannaggia me. Rivediamo. Ok. Rifacciamo scusatemi. Pranzare. Invio. Cenare. Invio. Se andiamo a vedere su application. Vedete che abbiamo pranzare e cenare. Così. È una stringa. Vedete? È una stringa separata da virgole. Non è un array. Lo vedete che non è un array. Quindi come gestiamo questa cosa qua? Perché poi diventa un disastro riportare. Mettete che ci sono gli spazi. O abbiamo scritto un task con la virgola. Se poi dici. Ah separami tutto ciò che è con la virgola. Magari ne abbiamo scritto cenare. Ad esempio per sbaglio con amici. Anziché fare lo spazio. Abbiamo scritto una cosa del genere. Eh no. Però se poi separiamo la stringa con la virgola. Diventa cenare. E poi con amici. Cosa vuol dire con amici? Ok? Quindi dobbiamo trovare un modo per salvarlo dentro. Che sia ritraducibile. Non c'è niente di più facile che usare il JSON. Perché JSON traduciamo in dato. Che possiamo mandare in giro. Ad esempio salvare qua. E poi lo possiamo riportare indietro come oggetto. Quindi. Che cosa possiamo fare per riparare questo problema? È molto facile. Anziché these tasks. Dobbiamo fare una piccola cosa. Che è json.stringify. Giustamente non me l'ho preso perché c'è tjson. Quindi json.stringify. Eccolo qua. E dentro ci buttiamo these tasks. Salvo. Possiamo pure togliere questi qua. Cominciamo con pranzare. Vedete? Adesso è un array. Cioè è una stringa. È una stringa. Aggiungiamo cenare. È una stringa qua. Ok? Ma automaticamente il browser ci ha già fatto la conversione. Quindi se noi riportassimo indietro questa stringa qua essendo un JSON. Se tu poi riporti il JSON. Ti trova a pranzare e cenare. Che è esattamente quello che vogliamo. Ok? Quindi al momento non abbiamo fatto altro che salvare i nostri dati. Li vedete? Adesso vogliamo toglierli. Per toglierli è molto facile. E ci basta sovrascrivere tutto. Ok? Potreste fare task 1 uguale. Semplicemente fare remove item. Ma noi abbiamo un'unica stringa. Visto che è un lavoro abbastanza facile quello che stiamo facendo. Noi modifichiamo prima qua i task. Noi facciamo tutta la logica di aggiunta eccetera. Qua dentro in JavaScript. Una volta che abbiamo finito. Prendiamo tutti i nostri task. E li sovrascriviamo al local storage. Vi faccio vedere. Quindi se io vado qua. Faccio così. Esattamente la stessa cosa. Vedete? Pranzare e cenare. Al momento facciamo così. Perfetto. Visto che non ci ha ricaricato i task non potremmo mai toglierli. Perciò pranzare. Cenare. Cenare. Benissimo. Andare in bagno. Tolgo cenare. Avete visto che ce l'ha tolto? Oh perché non mi prende mai la O per andare in bagno? Porca miseria. Riproviamo. Andare in bagno. Ok. Cenare. Ascoltare. Audio. Rispondere. E-mail. E vi faccio vedere come si comincia a togliere tutto. Vedete che me li toglie? Perché non lo sta togliendo da qua. Sta semplicemente sovrascrivendo il local storage con i nostri task. Che sono aggiornati in tempo reale chiaramente. Adesso. Cosa manca? Manca il caricamento dei task. Quindi quando noi creiamo la nuova to-do list. Task non deve essere vuoto. Task deve essere dis.caricatask. Ok. Che non abbiamo ancora dis.caricatask. E possiamo farlo così. Possiamo farlo in due modi. Potremmo dire tasks a prescindere è vuoto. Così. Poi viene sovrascritto se c'è qualcosa. Altrimenti resta vuoto. Oppure potremmo dire se mi trovi qua i task. Mi rimandi task. Altrimenti mi rimandi vuoto. Ma sta cosa qua noi la facciamo dentro caricatask. Ok. Non la facciamo qua dentro così. La rimandiamo fuori da caricatask. Mi sono un po' allungato. Forse avrei fatto meglio a non dirvi questa parte. La vediamo a brevissimo. Ok. Quindi la gestiamo così. Dis.tasks è uguale a dis.caricatask. Dis.caricatask entra qua dentro. Vede innanzitutto se c'è. Se non c'è niente ci rimanda completamente così a prescindere. Se c'è tasks ma magari è vuoto ci rimanda chiaramente vuoto. Se c'è qualcosa ci rimanda quello che c'è dentro. Ok. Questo è il giro del fumo. Quindi noi scendiamo. Dobbiamo farci un dis.caricatask. Quindi aggiungi, concludi e caricatask. Perfetto. Quindi qua dentro ci basta fare un const. In realtà non dobbiamo neanche fare const tasks eccetera. Potremmo fare solo return ma vabbè. Facciamo un giro in più solo per farvi vedere il ragionamento. Allora. Const tasks. Abbiamo. JSON.parse. Quindi dobbiamo parsare il quello che ci arriva. Facciamo un attimo senza. Allora. LocalStorage.getItem. Perfetto. Che item vogliamo? Vogliamo tasks. Che adesso non abbiamo più perché ho cancellato ma qua avevamo tasks. Ok. Qual è il fatto? Che sono in formato stringa. Quindi dobbiamo tradurli. Per tradurli come li abbiamo convertiti con JSON. Quindi JSON.stringify. Usiamo parse. Parse è il contrario di stringify. Vuol dire mi prendi il JSON e me lo converti in JavaScript. Abbiamo qua i nostri task e li ritorniamo. Quindi return abbiamo tasks. Potevate fare veramente solo così. Ok. Altrimenti. Adesso salviamo. Come vedete al momento non c'è niente. Io aggiorno. Abbiamo null. Non è quello che vogliamo null. Null non va bene perché vuol dire che qua dentro è null. Ok. Non c'è niente. Non l'ha trovato. Quindi come facciamo a dirgli. Wey. Guarda che se mi trovi null è vuoto in realtà. Ok. È questo il problema. Perché noi abbiamo che questi task al momento sono null. Ma noi non vogliamo null. Noi vogliamo una lista vuota di task. Cioè piuttosto mi dai un array vuoto. Ok. Quindi si utilizza. Lo facciamo qua dentro. Quindi cosa mi ritorni. O mi ritorni task. Se non trovi dei task salvati. Non che c'è l'item ma è vuoto. Ma se proprio l'item non c'è. Lo vedete che non c'è. Non c'è. Se non c'è. Dici piuttosto che mandarmi null. Questo vuol dire piuttosto che null. Mi mandi vuoto. Ok. Ok. Salvo. E vedete che adesso task è un array vuoto. Ok. Focalizziamoci un attimo su questa parte. Array moderno. Scusatemi. Javascript moderno. Che dice letteralmente. Se quello che c'è qua è null. Allora. Piuttosto. Fai così. Ok. Se invece. Qua c'è della roba. Fosse anche vuoto. Questa parte qua la togli. Ok. L'importante è che qua non ci sia null. Se qua c'è null. Prendi la seconda opzione. Ok. Questi due punti di domanda vogliono dire esattamente quello. Adesso che abbiamo il nostro caricatask. Benissimo. Quindi. Potremmo avere della roba dentro. Vediamo un po'. Facciamo pranzare. Basta fare il misspele. Allora. Pranzare. Cenare. Aggiorniamo. Vedete. Ho aggiornato. E mi ha tenuto pranzare. Cenare. Aggiungiamo. Andare in bagno con la O. Se io aggiorno. Vedete. Pranzare. Cenare. Andare in bagno. Qua non c'è niente perché non me li sta caricando. Ma qua dentro ci sono. Ok. Proviamo ad aggiungere un'altra cosa. Lo tolgo. L'ho tolto. L'avete visto. Aggiorno. Non c'è. Quindi funziona tutto. Manca solo una cosa. Caricare questi dati. Adesso. Come la gestiamo? Possiamo metterlo qua sotto. Quindi dopo che mi hai caricato i task. Mi genera i task. Quindi potremmo fare disgenera task. Ed è diverso rispetto a genera nuovo task. Perché nuovo task è singolo. Mentre genera nuovo task è per tutti. Quindi potete metterlo qua. Oppure potete metterlo qua dentro. Qua carica task. Ma facendo il return. Meglio lasciarlo così. Piuttosto. Quindi direi che possiamo metterlo qui. Disgenera task. Andiamo quindi sotto a generare più task anziché uno. Genera task. E cosa facciamo? Prendiamo tutti i task e facciamo un for each. Per ogni for each. Scusatemi. Per ogni task nel for each. Me lo mandi a schermo. Punto. Quindi cominciamo a prendere tutti i task. Dis.tasks.foreach. Let's go. Abbiamo gli elementi che chiamiamo task singolo. Chiaramente. Per ogni task. Dobbiamo creare il nostro p. Quindi const p. Uguale document punto create element. Create element. Ho fatto ancora un po' di misspell ma non è un problema. Creiamo un p. Per ogni p cosa facciamo? Quindi p punto append child. L'abbiamo già fatto. Dobbiamo mettergli il node. Quindi document punto create text node. E qua dentro gli mettiamo il task. Non in maiuscolo magari. Gli mettiamo il task. Adesso dobbiamo appendere questo p alla to-do list. Quindi to-do punto append child. Che cosa? Appendiamo p. Se non abbiamo il nostro to-do che non ce lo trova. Molto semplicemente. Noi da qua dentro vedete abbiamo il nostro to-do. Quindi append child bla bla bla. Adesso cosa facciamo? Dobbiamo aggiungere anche su questi. Vi faccio vedere. Se io clicco non succede niente. Perché sono stati generati senza l'event listener. Se io aggiungo questo. Bau. Vedete che su bau funziona. Perché bau è stato generato qua. Vedete? Con l'event listener sul click. Qua invece non l'abbiamo fatto. Perciò lo andiamo a fare. Prendiamo la stessa cosa. Qua dentro. Sistemiamolo. In realtà controlliamo se è giusto. Dovrebbe essere giusto. Perciò noi salviamo. Vedete? Abbiamo caricato la pagina. Aggiungiamo qualcosa. Bau. Aggiorniamo la pagina. C'è ancora. Togliamo andare in bagno. Aggiorniamo la pagina. Perfetto. Avete visto? Proviamo ad aggiungere. QWERTY. Tolgo. Aggiorno. Perfetto. Ok? Quindi questo è l'esercizio della to-do list. Ok? Non era. Non è semplice se siete appena arrivati su JavaScript. Se invece lo utilizzate da un pochino. Forse la logica. Poteva essere un po' più complessa. Cioè. Secondo me è sempre la logica della classe che può confondere. E quindi vi dovete esercitare su cose del genere per capire. Comunque. Il discorso delle classi è molto. È molto comodo perché abbiamo la nostra to-do list. E da qua gestiamo tutto. Vedete? To-do list. Aggiungi task. Vado a prendere tutti i task con this. Perché sono qua dentro. Prendo i metodi che mi servono. Anche qua vedete? Genera nuovo task. Ho preso l'event listener. E gli ho aggiunto this conclui task. Cioè vedete? È tutto interno. È tutto gestito in casa. Tra virgolette. È molto comodo. E basta. Questo è quanto. Vediamo cosa c'è nel prossimo esercizio. Torniamo indietro. Qua. Il prossimo esercizio è generare password complesse. Questo è divertente. Questo è veramente divertente. Ma anche gli altri diventano divertenti. Quindi io vi ringrazio per essere rimasti con me. Spero sia stato chiaro. Sotto in descrizione trovate come al solito i link per supportare il canale. I miei altri canali. Il sito che vedete qua sulla destra. Bla bla bla. Io vi ringrazio. E alla prossima. Ciao ciao.